La Mezzia Terme ospiterà la quinta edizione del Premio Nazionale Astrea, manifestazione nata per premiare le personalità e i talenti più significativi del territorio regionale operanti in qualsiasi parte di Italia e del mondo, nei campi della legalità, della giustizia e dell'imprenditoria, ma anche dell'arte, della cultura e dello sport. Il premio, presentato dalla Presidente Piera D'Astoli e dal Direttore Artistico Massimo Mercuri, si svolgerà il 1 ottobre a partire dalle 19 presso la location dei Giardini del Novecento. Riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, si svolge con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria, della provincia di Catanzaro, del Comune di La Mezzia Terme, di Epli Nazionale, di promozione Italia e ITS, con il supporto di numerosi partner privati ed associazioni. Numerosi anche quest'anno i riconoscimenti assegnati. Menzione speciale al Procuratore Nicola Gratteri per il nuovo incarico come Procuratore della Repubblica di Napoli. Due calabresi operanti fuori dai confini regionali saranno premiati anche in ambito culturale. Il primo è Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano e dirigente del settore Cultura del Comune di Milano. A seguire è Fernando Muraca, regista, sceneggiatore e scrittore lametino che ha diretto per la televisione sceneggiati come il Commissario Rex, Don Matteo, Un Passo dal Cielo o film per il cinema come La Terra dei Santi. Per l'imprenditoria sarà premiato Luccio Cappo, amministratore delegato del gruppo Cappo, azienda leader a livello nazionale per la produzione di alcolici. Il riconoscimento in ambito sportivo andrà invece al Catanzaro Calcio. Ancora nel campo della giustizia e della legalità ad essere premiata sarà il magistrato Marisa Manetti. Nello stesso ambito sarà premiata la Commissione del Consiglio regionale contro il fenomeno dell'andrancheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa di cui è prevista la presenza al completo. Alla giustizia sarà dedicato anche il premio alla memoria che andrà ai familiari del procuratore della Repubblica di La Mezzeterme Giovanni Pileggi, scomparso nel 2006. Premiata anche una manifestazione nata sul territorio regionale, il festival d'autunno di Catanzaro con la sua presidente Antonietta Santa Croce. e la cura della Repubblica di La Mezzeterme e della diretta.